Pio! 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 E' qua? Io? Non dici il led, eh, ci sono vari led! Eh, gli occhiate! E' qua ce l'ho! E' con l'occhiare! No, no, no! Ah, io ti ha messo qui i bibri! Ahhhh! Sono originali, eh! E qua? Prima che facciamo, prima! Ragazzi, pronti? Si! No! Per favore, eh! Sono state zitti! Sono state zitti! Non ci dico queste cose, eh! Ma c'è il pomolone! E' qua! E' qua! Bravo! Bravo, Luca! Bravo, Luca! E' step step e basta! Step step! Vina! 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 Parapapam! 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 Praapapam! Parapapam! Parapapapam! Parapapam! Parap Weserus! Parapapam! 川оп! E' da! E' mai Sa vrotesco! Parapapam! Parapam! Parapam! Francesco come fa Francesco? Francesco ce l'ha fatto Francesco? Si studia a casa! Dovete studiare a casa! Allora lui deve venire qua! Un paio che vado in prova! A casa! Studiare! Luca però! Facci sentire che stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo? Luca che stai facendo? Solfetto! Quei due graffi di lago! Delle paume! Sentiate! 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 E che cazzo raga però? Ste penne! Non me ne portate! Non è possibile! E' un battito! Voi pensate le stesse cose! Vedi sempre le stesse cose!